Il mistero che alleggia sul calcio biancazzurro porta i tifosi a pensarle davvero tutte per poter riuscire ad avere una soluzione ed una risposta a quello che sembra una storia davvero infinita. Nel nostro caso abbiamo intervistato Rino Lecci. Da sabato 11 giugno è in sciopero della fame e della sete. Perché? Perché? Perché ci dovrebbe essere sempre una risposta ma queste risposte non arrivano mai. E io sono stanco da tanti mesi, da un anno che noi tifosi del Brinzi stiamo soffrendo. Prima per la vendita a questi due signori stiamo aspettando, stiamo facendo di tutto per sapere, per vedere. E' l'indifferenza della città che mi sta addottormentando la mia vita. L'indifferenza generale, politici, la città di Brinzi stesso che se ne sta fregando del mondo intero che il calcio deve morire. E questo a me mi sta dando nel cuore. Allora io sabato a mezzogiorno ho deciso, parlando con il mio dottore, ho deciso di fare questo sciopero per la sede prima e poi per la fame. Perché? Perché vorrei una risposta da questi signori politici. Non mi va più di aspettare, i giorni stanno passando. E la mia vita ogni giorno di più diventa sempre più preoccupato per la mia salute e per il Brindisi. Perché io faccio Brindisi e la mia salute. Salute e il Brindisi. Se vogliono che il Brindisi muore, che lo dicono, ormai non c'è da aspettare più, mancano pochi giorni, come si vuol dire, alla condanna. Lo dicono subito che il Brindisi deve morire e noi ci mettiamo l'animo in pace. Però se dobbiamo salvare il Brindisi, spero che questo lo faranno, che lo dicono subito, nessuno esce con un comunicato, nessuno dice una parola. Gente che sa, gente che non sa, figli e figliacchi, come sempre in questa città ci sono queste cose. E allora, un comunicato del sindaco, un comunicato di Pupino, io chiamo Pupino al telefono e non mi risponde mai, mi avevo promesso che mi doveva rispondere. E sa le mie condizioni di salute. Questo signore mi ignora, l'ho fatto l'ultima telefonata tre giorni fa, prima di decidere questo, al solito non mi ha risposto. L'ho lasciato il mio messaggio e non mi ha risposto. Vorrei ringraziare tutte le persone in questi giorni che mi stanno telefonando. Io sono un consigliere della Fisci. In questi giorni tutti mi sono vicini da Ferrara, Cosenza, Roma, Milano. Tutti mi stanno vicini per questo gesto che sto facendo, anche se loro non l'apprezzano. Però mi sono vicini, come tutta Brindis penso che mi avvicina. Io ringrazio voi, tutte le televisioni, i giornali che mi state vicini, perché poi voi solamente mi potete capire. Grazie. Grazie.